Molto bello perché ti faccio il mio corretto. Puoi dire un'altra cosa qua? Puoi dire un altro regista? Si, puoi dire un'altra cosa. Un'ipote, un telefono sempre. Un'ipote. Questo vino è bello e sano, brinda se faccia ad Antonio e Fabiano. Va bene? Dici ancora una cosa, che non stai guardando. Se bicchiere il vino è bello e fine, brinda se faccia ad Narduzzi. La zia, la zia che mangia le tagliatelle. Lei non può mangiare, non può mangiare, non può bere. Ma guarda come mangia bene, guarda. Ciao zia. Io mi ricordo un brindisi che mi ha fatto tatarano quando ti hai sposato tu. Dai, dillo, dai. Ma non me lo ricordo proprio. No, no, non mi ricordo proprio. No, no, non mi ricordo proprio. No, no, non mi ricordo proprio. Ingeppe il lotto, cosa significa ingeppe il lotto? A casa qua. Si, ma alle otto giorni. Allora si è abusato. Che significa ingeppe il lotto, ma? Ingeppe il lotto, che significa? Abbiamo ammazzato le capri sotto. Dopo otto giorni. Qua, panno, pizzeri, tutto quanto. Dopo otto giorni. Dopo otto giorni. Solo a trombare, abbiamo capito. Sì, è di fare anche a Pasqua, mattina qui, stai in giustetà alla Funtanena, questa rosa mucicchia. E qui, tutto a Bernabà. Ci stai da fare, quando ci stai spostando, ci stai 8 anni. Con questi vicini, sai quando ci sono stati componenti? Ti giuro che forse non ne ha fatto meno, nessuno non ne fa meno. Quello che ha fatto, bello, bello, bello. Che non mi mai scordo, quanto bello, Nardo. No, ma non mangio. Buon appetito, no, no, buon appetito a zia Elvira, buon appetito alla mia mamma, che speriamo che non mi fa perdere un treno, mi piace giocare di un treno. E buon appetito a mio cugino Antoni, che anche se è in controluce, lo vedo.